Il Brindisi perde una ghiotta occasione per chiudere questo 2012 con una vittoria, un anno dal punto di vista calcistico per molti versi da cancellare per la formazione bianco-azzurra. Finisce 0-0 nello stadio Conte di Pozzuoli, biancazzurri che non erano di scena in questo impianto contro la Puteolana da 12 anni. Uno 0-0 che accontenta più i padroni di casa, costretti a giocare per tutto il secondo tempo in infrarietà numerica per l'espulsione di Scogna Miglio. Ciullo è costretto a cambiare qualcosa in formazione per consentire ai suoi giocatori di recuperare dalle fatiche del turno infrasettimanale con il Potenza. Fatiche che si sono fatte sentire e come, soprattutto perché quella partita si era giocata su un campo pesantissimo. Tedesco è costretto a partire dalla panchina, l'unico attaccante di ruolo in campo è Albano. Resta comunque lo schema del 4-3-3 attorno alla punta materana. Ci sono Greco e Laboragine che giocano in posizione più avanzata rispetto al solito. In porta c'è ancora il portiere Ander Agostini con la linea difensiva composta da Hassan e Stajano sugli esterni e Cacace e Mirabet centrali. Trova spazio sulla mediana invece il 93 Mariano. Veniamo alla cronaca, partenza bruciante della formazione ospite, due occasioni clamorose nel giro di quattro minuti. Dopo un primo ci prova Bartocini, da ottima posizione però il suo tiro è piuttosto timido e centrale. Al quarto minuto clamoroso errore dell'estremo difensore della putiolana Ciccarelli non ne approfitta ancora Bartocini che non riesce a inquadrare lo specchio della porta a partenza bruciante dei biancoazzurri. Dodicesimo, Laboragine reclama un calcio di rigore per l'arbitro, è tutto regolare. Ventunesimo, punizione schema, botta di sireno per Cacace, torre in mezzo, non ci arriva Albano. Ventitresimo, si fa vedere la putiolana, azione personale di Borrelli, Cacace mette in angolo. Trentasettesimo, ancora putiolana, tiro da fuori di Sabia che non trova però fortuna. Con le immagini passiamo alla ripresa, nel secondo tempo la putiolana sembra più cattiva rispetto alla Brindisi. Al secondo minuto Lepre recupera un buon pallone, il tiro però è alto. Sulla traversa al quinto la possibile svolta con l'espulsione di Scogna Miglio che colpisce con la pallone lontano. Mariano se ne accorge il direttore di gara e lo manda. Sotto la doccia Brindisi in superiorità numerica. Ottavo minuto, Agostini mette in angolo su calcio di punizione di Napolitano, pregevole l'intervento della giovane portiere bianco-azzurro. Nono minuto, cambio nel Brindisi, entra Tedesco al posto di Bartocini, Ciullo rinforza la zona offensiva. 29esimo, cross di Laboragine, Cicca il difensore centrale della putiolana a lungo. Non ci arriva, Albano per un soffio, ghiotto opportunità per il Brindisi. Trentesimo, Greco protesta per questo presunto fallo in aria. Ai più è parso calcio di rigore, non al direttore di gara, il signor Daniele De Remigis di Teramo. Il contatto c'è, Greco non avrebbe avuto tra l'altro nessun interesse a buttarsi a terra. Due passi dalla porta, ma per il direttore di gara è tutto regolare. 32esimo, Borrelli per la putiolana, conclude dopo un triangolo. 36esimo, Laboragine al centro, testa di Albano, tentativo di rovesciata per Tedesco. Entra pure Luca per il Brindisi al posto di Greco, Biancasuri in campo adesso con la 4-2-4. Ultimi minuti di forcing. Al 43esimo tiro di Albano blocca Ciccarelli, poi le due occasioni più ghiotte nei minuti di recupero. Al 45esimo, tentativo al volo di Stajano da fuori aria. L'estremo difensore della putiolana mette incredibilmente in angolo, allungandosi nell'angolino basso alla sua destra. Tiro da tre punti, quasi, quello di Stajano che non trova fortuna nella circostanza. Passano ancora due minuti, è l'occasione buona per Tedesco. Dopo un'azione confusa nell'area di rigore, Flegrea, il pallone finisce sui piedi. Del attaccante, Bianco-Azzurro, che non riesce a centrare lo specchio della porta. E' 0-0 dopo 95 minuti intensi al Conte. Il Brinzi avrebbe potuto stare di più, ma l'impressione è che la fatica per il turno infrasettimanale abbia pesato tantissimo nelle gambe, più che nella testa dei calciatori di Salvatore Ciullo. Si riprenderà dopo le feste con un'altra trasferta, la terza consecutiva, sul campo del Biceglie.